ciao a tutti ragazzi sono francesco ed ecco che vi ho fatto il video per per scaricare l'emulatore psp allora dentro la cartella per spi troverete un file con scritto leggi prima di giocare quindi da lì dovete scaricare obbligatoriamente una pace per registrare il gioco per giocarci ecco non è niente di difficile solo scaricare il link che vi ho scritto lì e basta poi potete procedere tutto per giocare cose varie poi vi lasciate download di yugioh tag force 5 dovete scaricare un un programma chiamato utorrent e da lì dovete scaricare il gioco ci mette più o meno 30 minuti c'è un mese per scaricare i file sono circa mi sembra se non mi sbaglio 10 15 partizioni di la cartella di yugioh tag force poi voi sapete che dovete unire tutta la cartella sono sapete c'è tipo la parte 1 la parte 15 dovete sezione tutta la parte 1 alla 15 può andare sulla cartella parte 1 fai strike e loro ti automaticamente vi fa il file iso c'è gioco completo poi vi lasciato anche il programma che si chiama fraps in cui sto registrando se volete registrare anche voi potete divertire insieme a me registrate pure l'ho lasciato lì già creccato tutto potete registrare in quanti minuti volete bene ragazzi questo è tutto spero che spero che vi divertiate ecco niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao un abbraccio a tutti ciao